Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, dunque oggi 10 agosto è terminato il ritiro del Como Women e lo so perché erano qui a Marileva dove sono io, mezz'anno a Marileva, in vacanza e quindi è stata un'esperienza bellissima, ho visto tutti i loro allenamenti, ho visto anche la loro partita che hanno fatto, trovate questo video più che altro una raccolta di foto che ho fatto in questa avventura, chiamiamola avventura e spero che vi piaccia, colgo l'occasione per ringraziare anche il Como e tutte le ragazze, qui si vede male perché si vede solo in controluce comunque è lo stemma, il galliardetto del Como con tutte le firme delle ragazze e dell'allenatore della Fuente, l'ex allenatore dell'Inter che ha vinto anche il campione di Serie B, è un allenatore molto preparato, un gran team veramente e vi invito, vi invito a seguirli perché sono gentilissimi e le ragazze meritano tantissimo, sono veramente forti, giocano veramente alla grande e io ho già fatto la mia previsione che terrò per me per il prossimo campionato di Serie B femminile perché non voglio passare da uccello del malaugurio, comunque ragazzi veramente seguiteli, sono su tutti i social, è veramente un gran gruppo, una gran bella squadra, una gran bella società e giocheranno ve lo dico a Cislago così se mi capiterà insomma di poter voler andare a Cislago a vederle, mi farebbe piacere se si riuscisse ad ampliare la tifoseria del Como Women perché ripeto sono delle ragazze che meritano tantissimo, è una società che merita tanto, stanno investendo tanto e credendo tanto sul movimento calcio femminile e sapete tutti voi che mi seguite quanto a me stia a cuore questo argomento, quindi lo dico proprio col cuore in mano, Forza Como Women e grazie per questi giorni assieme perché sono stati veramente molto belli, ho visto del bel calcio, dei bei allenamenti, è stata veramente una sensazione molto 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 piacevole e una cosa che spero in futuro di poter rivivere, quindi ecco le foto che ho fatto, parte adesso la carellata e godetevele e seguite il Como Women, ciao ragazzi! Grazie a tutti! 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 a tutti!